È una crisi assurda, surreale, lontana di luce dalla realtà che è fatta di scuole, di tamponi, di vaccini, di crisi economica, di difficoltà delle categorie. Quindi è una crisi inspiegabile, aperta in maniera irresponsabile da parte di Tagliaviva e adesso speriamo che un conteter possa ripartire con un progetto e una coalizione europeista in grado di arrivare alla fine del mandato. Io credo che non ci siano alternative a Conte perché comunque Conte non solo in questo momento ha la fiducia del politico italiano che ha maggiore fiducia da parte degli italiani ma perché è sostenuto comunque da 5 Stelle, da PD, dall'EU, da un gruppo di responsabili. Quindi non vedo in questo momento in Parlamento altre persone che possano avere una maggioranza più larga. Quindi spero che davvero un conteter si possa fare, che si chiuda questa maledetta crisi incredibile e incomprensibile e si possa ritornare a programmare, a lavorare sui tanti dussi aperti perché siamo davvero in un momento emergenziale sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista economico.